ragazzi siamo sempre sotto al pontos anche se i pacchi non si vedono perché so invisibili però vi confermo che ci sono delle carte dentro ciao ragazzi io sono cappello di paglia e siamo sempre sotto al pontos perché perché delapido i miei soldi perché quelli posso delapidare ancora non ho venduto il culo per delle carte che possono essere yugioh magic pokemon one piece forse will no forse will no l'urkana e dragon ball a questo giro è yugioh questo è un canale yugioh e sono contento che vi siate iscritti avete messo like e commentato detto questo ovviamente ragazzi per iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da chi la fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di carta hanno un sacco di altre roba tipo lego e action figure e roba però a noi non interessa perché noi siamo dipendenti dai giochi di carte collezionabili e quelli compriamo quindi se volete risparmiare e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jack store anche lui è un botto di roba però lui vende roba coreana e giapponese sia di one piece che di yugi e altre robette esotiche carine quindi anche per lui il referral link e il codice sconto sempre qua sotto detto questo ragazzi andiamo ad aprire perché abbiamo sia il lotto di shade che il lotto di un altro ragazzo che di base ha fatto uno scambio mi ha dato un po di roba e si ha collato un drago arcobaleno ghost in prima nm un bel pezzo eh però vabbè ha ovviamente se volete liberarvi delle vostre carte di yugi magic pokemon tutte quelle che ho detto prima trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatevi mandatemi le foto e se c'è roba interessante anche noi interessante scrivetemi eh mandatemi le foto e vi dico se mi interessa o meno e vi faccio la valutazione e niente tutto il resto e le solide cose detto questo andiamocelo ad aprire allora io partirei dal lotto di shade che me lo sono preso stamattina da prima visione ho dovuto aspettare 40 minuti voglio fare il momento polemica perché il tipo stava al cellulare grazie 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 avevo altre cose da fare nella mia vita rispetto ad aspettare te che finissi di parlare con boh ma ok allora speriamo che shade non si sia dimenticato niente e me abbia mandato tutto e altrimenti vado a casa sua so dove abita è il moderatore del canale quindi diciamo che non mi sfugge nel caso primo pacchettino e vediamo ma mi sa che come al solito gli ho pigliato un po d'immondizia andiamo anche col secondo così apriamo tutto e vediamo che diamine ci esce uno due tre oh guarda quanta plastica per uccidere i delfini mamma mia almeno quelle sono le buste dove la plastica si separa bene ce ne sono alcune che sono terribili che proprio rimangono appiccicata alla carta e non ti fanno fare la raccolta differenziata grande bene bene cappello di paglia per il sociale ragazzi fate la raccolta differenziata perché altrimenti vengo a buttare immondizia dentro casa allora oh bene questa è la roba di shade vediamo cosa c'è qua dentro vediamo quanto mi dovrò incazzar carica a carte che non valgono assolutamente niente bello proprio quello che volevo questo è uno di quegli acquisti worth belli positivi bene alla prima bustina andata e non c'era niente andiamo con la seconda wow proprio quello che volevo incredibile dai una cartina bella la vorrei assolutamente seconda bustina senza niente andiamo con la terza abbiamo stick your soul è già questo è un pochino interessante poi borger raisin ok ecco questa interessante queste in condizioni good però è interessante è una roba da retroforma 15 c'è sta me la posso accollare guardate quanto è bellina o con i suoi angoli distrutti poi abbiamo questo drago alinere american sembra nm perché se non lo è lo impalo perché sta a 15 euro sembra sembra pulito sembra che il suo lo faccia top bene cartina 15 euro portata a casa poi drago fortezza questo stancazzo questo stancazzo stancazzo spiego di cubel ma tanto l'hanno ristampato e non sta un cazzo prossimo abbiamo più il risalto o memoria riformulazione tante carte super rare torniamo alle comuni grande 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 next e vediamo cosa c'è qua abbiamo room heart popular vabbè questo sta risalendo perché non esce da tin poi noir paffuta bellezza quanta roba pure li mai mandato nell'arco dei due volte beh abbiamo questo rottame e la roba inutile questo rottame cazzo l'hanno fatto secret pure io che controllo ste carte dai dai allora ovviamente shade lo sa che è scherzo forse allora abbiamo emperor chimera fusion oh bello questo vabbè roba infernoid gigantic sprite da pote questa non sta niente questa non sta niente sta niente questa non sta niente questa non sta niente questa non sta niente in questo è carino la blhr è ok non mi ricordavo è preso proprio sto bike sembrava ci fosse qualcosina di più carino nel mezzo vabbè comunque c'è la carta 15 euro quindi va bene però mi ricordavo pure altro sono un po interdetto a dove sono le carte belle allora un l'ultimo e vediamo sono un po interdetto ma io veramente preso sta roba sembra di sì quindi ok oh adesso andiamo con la roba vera che costa allora abbiamo questo albumino abbiamo questo deck box abbiamo quest'altro team pieno di robe speciali e una carta misteriosa si l'ho svuotato andiamo con il primo mucchietto probabilmente saranno tutte comuni allora a parte beh questa carta fake poi un po di roba da mp che comunque fa mucchio questa si carica tutta sul market e e se fa fa un volo bene 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 e il primo è andato andiamo a vedere questo che come lo apro non questo non lo apro allora tiriamo fuori il cortello per sguazzare i maiali probabilmente mi ci taglierò una mano impossibile tocca buttarlo via e non aprirlo minchia ce l'abbiamo fatta cosa ci sarà mai qua dentro sono molto curioso comunque bravo ragazzo che mi ha slivato tutto beh questo è bltr vediamo se c'è anche qualcosa di carino oltre a quelle brutte uh questa è carina questa è da mp24 cashteosi flamberga onesto ring vroom nobili armi frassino secret sargas pulite queste allora uomo malato numero 15 va bene va bene c'è una quarter bella questa ok questa mi serviva che non ce l'ho un'altra roba giapponese ingranaggio del caos ho ma non so inglesi quindi dubito che mi servano però questo parallelo exeed è sempre italiano quindi non mi serve poi il allenatore un braccio uh falò bello ci sta sono 10 euro più ingranaggio golem ingranaggio antico fidale bene 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 qua già partiamo bene qua partiamo c'è lui interessante poi abbiamo cannone sen gengin vabbè cose a caso il leggendario exodio incarnato strappa possesso questo questo per i altro format è bella onesta poi il leggendario gigantex sprite scambia rana questa ma sempre per edito un va benissimo alla fine di anubis illumina sì pallucci annullata drago vabbè poi le robe a caso questa forse sta un paio d'euro ancora sprite sprint se c'è pure sprite blu con mezzo tipo per adesso no speriamo più avanti bel playset sprite blu che ci montamo barriera di ghiaccio sprite beccato una ultimate godo anche se sto compensatore di danno ho visto momenti migliori però vabbè legame legame cose a caso riemersione fuga dall'altra dimensione in due per vabbè uh bella questo il card di gladri bestia vabbè finché trovo roba retro format va bene tanta roba giapponese tanta roba perdiamo nell'eterno tanta roba giapponese per due vabbè queste ok diciamo è un mix di roba poi andiamo avanti bello utopia astrale mi sembra si chiami così carino questo non ce l'ho mai avuto da brawl mi sembra uscisse poi abbiamo rottame sincro secret bellissimo bellissimo questo poi abbiamo le succhiabilità questa giapponese true light che questa tipo sta a due euro barriera questa in prima carina sfortunatamente è sbeccata ma vabbè dettagli poi harpy feature storm che pronuncia inglese vabbè questa roba giapponese 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 runic tip allora una bellissima runic tip di un mazzo che dopo tre anni ancora continua a fare topping salze differenti spaccatura bene fioritura fontana runic ok macrocosmo anche questo detto anche a raizart più o meno poi barriera demone eterna di nuovo altro macrocosmo vabbè ok andiamo con le ultime poi passiamo all'album e alla carta misteriosa che io voglio aprire quella voglio far vivere quella che so contento che mi sia entrata perché proprio bella anche se in condizioni un po così allora abbiamo un cherubino raiti questo american questo american questo parallel secret uh bella questa però c'è la in denarsan quindi un po' è arcidemone vediamo uh questo da tgs unlimited in condizioni abbastanza discutibili ha visto tempi migliori ragazzi mi dispiace allora mi dispiace per i miei fan di five days ma quella un po' la merda fortuna almeno che è il limited non in prima perché se no era la piagna perché in prima la roba tgs non mi è mai entrata oh ma non parlo della roba che costa parlo anche delle comuni di merda e vabbè qua abbiamo questa maga nera che se fosse stata quarter erano bei soldi tipo da come ho capito sta 70 euro e poi per il resto niente qua guardiamo le ultime ma credo sia tutta roba giapponese adesso vediamo se c'è qualche quarter spicy ma non credo questo che da noi sta 5 euro uh questo che è platinum va bene carino questa che è secret vabbè una minerva che poteva essere secret non dico ultra rara versione figa bella da 2000 euro però per il resto poi niente un 6 massimo ultra da ldd si è l'odd va bene e basta oh ragazzi ma voi like l'avete lasciato l'iscrizione il commento perché a voi non cambia niente ma a me da un supporto enorme mi permette di superare toda bisogna arrivare a 10k per l'anno prossimo dai su grazie mille se lo farete e continuiamo il video bene passiamo all'album e vediamo cosa mi è arrivato dovrebbe essere anche qua tutta roba abbastanza tranquilla eh niente di particolare tutta robetta che costa poco mettiamola così tanto vabbè c'è sta roba qua questa che non so forse ci facciamo un euro con tutti insieme questa è no d'arsenale pensavo un attimo una pack queste sono da rimp mettiamola così poi per dire queste sono da rimp carine questo è distrutto non lo so ragazzi viene da piangere allora allora queste sono secret parallel non vedo la quarter questo è da sdli che non è male cioè sto tentando di arrampicarmi sugli specchi ragazzi sto tirando sul salvato questo sta un euro questo ragazzi questo sta un euro sono molto contento e poi prigione dimensionale questa si gioca in edison ed è buona quella è quella è una bella carta bene visto anche quello che diciamo non è cabbia brillato con carte incredibili passerei a una cartina gradata si ragazzi ve lo spoilerò è una carta gradata sfortunatamente non ha un'incredibile valutazione però oh alla fine ve dirò ci sta non ce l'avevo e a sto punto meglio averla che no allora apriamolo che mi farà penare le pene dell'inferno allora non voglio spoilerarvelo subito lo tiro fuori da qua bene è un bgs non è il più bello di bgs perché guardate quest'angolo qua è no proprio no con una roba del genere io una carta non la manderei mai gradare soprattutto perché ha anche altri difetti adesso ve la faccio vedere e piangere insieme a me capisco che ha il centering 9 e l'edge 8 e mezzo però parliamoci chiaro con danno del genere considerarla ex nm più mi sembra un po eccessivo per me una roba del genere non è nm ma mai nella vita cioè nel senso io non vi venderei mai una roba del genere per nm ex però nel dubbio ragazzi oh rago del giudizio in italiano da turbopack ultimate ci sta si mette qua dietro e rimane lì finché non decido di spaccarlo e giocarmelo in light sword dovrebbe essere il secondo teoricamente che ho però vabbè alla fine ci sta è come fosse un error ragazzi cioè se dovete gradare una carta che vi prende 6 e mezzo non gradatela comprate un'altra messa meglio che vi può prendere per la roba più vecchia anche 8 ma bisogna puntare a 9 e al 10 e basta cioè sta roba cioè allora cioè se gradate una roba del genere è perché la volete voi gradata non perché volete guadagnarci e già la parola guadagno col grading proprio no ragazzi per me è una roba che non sta nel cielo né in terra cioè se avete la vostra collezione pensate adesso la mando a gradare così prendo tutti 9 e 10 e ci faccio 8000 euro no lasciate sta proprio no poi oh ci sta se vi va di gradare una carta perché pensate che vi prenda 9 e 10 per rivenderla di più ok ma non che la gradazione è il santino definitivo per compraste casa eh ve lo dico perché diciamo ultim ultimamente da post pandemia la situazione è un po' degenerata eh mettiamola così e vabbè comunque ci sta bel pezzetto e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate e se ho fatto bene a prenderla perché perché quell'angolo sbeccato è un po' metilta ma sapete perché ste carte hanno gli angoli sbeccati perché a volte la macchina che taglia le carte non è affilata benissimo e si strappa via gli angoli ma vabbè sfortunatamente è così detto questo ragazzi ovviamente vi ringrazio per aver visto il video e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti